Continua in questi giorni l'attività di controllo del territorio provinciale da parte della Polizia Stradale che ha portato in reale denuncia di due regusani per porto di oggetti illeciti e di un comisano per guida senza patente. I due regusani sono stati fermati la scorsa notte in via Risorgimento nel capoluogo, uno è risultato essere con diversi presenti penali quali guida in stato di ebrezza, lesione e porta abusivo di armi. Gli agenti hanno così proceduto alla perquisizione dell'auto rinvenendo al suo interno un'ascia e non essendo giustificato il porto d'armi della stessa è stata sottoposta a sequestro ed è denunciata all'autorità giudiziaria. Durante gli stessi controlli denunciata anche un comisano che sulla Ragusa Comiso a bordo di un motociclo da cross era privo di casco, assicurazione e targa da un rapido controllo e il risultato anche privo di patente per la guida per cui oltre alle contestazioni di benotto verbali per varie violazioni al codice della strada per un importo pari a 2200 euro è stato denunciato per guida senza patente e il mezzo è stato sequestrato. Grazie a tutti.